Tobia, abbiamo visto la partenza di questo Pony Express, ci dici in due battute qual è la vostra iniziativa? Bene, noi facciamo trasporto merci in bicicletta, quindi su due ruote solo ed esclusivamente in bicicletta, nei centri urbani perché è dove la bicicletta come metodo di trasporto per merci ha più senso, in quanto nei centri urbani il 30-40% del traffico che troviamo è formato dai vari van furgoncini che trasportano merci, quando il volume medio delle cose che trasportano dentro è molto inferiore al volume esterno che loro hanno, quindi creano degli ingorghi stradali e delle difficoltà all'interno dei centri urbani enormi per un servizio che non hanno necessità di fare in quella maniera. Voi avete sede? A Pesaro, in via del governatore 33. Al momento quanti mezzi avete, operativi? Abbiamo operativi 6 bici, sono due a Riccione, una a Cattolica e tre a Pesaro.